Non è facile prendere la parola sul tema del virus che ha colpito la nostra comunità così duramente perché non è facile dire di che cosa si tratta di prendersi cura e il contrasto tra le tante visioni di ciò di cui si tratta di prendersi cura è violentissimo, non è mai come oggi così evidente bisogna prendersi cura di una fascia d'età piuttosto che di un'altra della popolazione nel suo complesso oppure dell'economia delle sue esigenze del orizzonte nazionale diciamo così oppure europeo oppure internazionale allora è evidente che tutte le opzioni che puntano a prendersi cura di questo piuttosto che di quell'altro scontano insieme alla bontà delle loro ragioni la bontà delle ragioni dell'elemento contraposto, della prospettiva contraposta e questo ci dice una cosa molto semplice che queste opposizioni non valgono più, che queste opposizioni sono il retaggio di un tempo che è passato o che comunque è sospeso e non vige più nel momento in cui è in atto ciò che è in atto nel momento in cui accadono cose si potrebbe dire con una quasi battuta di cui bisogna però avvertire un elemento inquieto inquietante ogni volta che accade qualcosa si potrebbe dire accade una cosa e l'indefinitezza di questa indicazione è forse la cosa più significativa non sappiamo esattamente che cosa accade cioè non sapremo chi e cosa saremo dopo che sarà accaduto e innescato tutto l'insieme delle conseguenze di questo accadere siamo in altri termini davanti o nel bel mezzo di un grande evento come ce ne sono periodicamente nella nella storia umana nella storia della nostra stessa comunità solo che ce lo si dimentica in fretta questo eventi che hanno spazzato via consuetudini e delimitazioni e articolazioni del campo dell'esperienza assolutamente affidabili consolidate eventi di questa portata ce ne sono stati molti e allora quando dico che è difficile decidere quale fascia d'età proteggere di più quale oggetto mette al centro delle nostre cure se la salute della popolazione oppure dell'economia se la protezione di uno spazio nazionale o di uno spazio più ampio ecco è evidente che tutte queste sono delimitazioni che rispondono a una certa logica ed è altrettanto evidente che la logica del virus le mette in questione tutte le taglia diciamo così secondo un nuovo piano di articolazione le disarticola rendendo inefficace ogni tentativo di fare affidamento di poggiare il piede su quelle delimitazioni sembravano così concrete erano semplicemente il portato di un ordine delle cose no di un modo di guardare e praticare il mondo la nostra vita la nostra idea di ciò che vale e che non vale legato a un altro contesto quel contesto non c'è più è il motivo per cui potremmo dire la metafora della guerra che regge così testardamente grande parte dei discorsi che si fanno sulla nostra situazione attuale siamo in guerra siamo in guerra contro il virus il virus è un nemico si contano le vittime ma anche i colpi che iniziamo forse a far subire questo nemico ma è il motivo per cui questa metafora non funziona più già non funzionava più nel caso dell'altro grande evento che non a caso mi sembra accostabile per grandezza per impatto e anche per modalità specifica di mettere in questione i nostri modi di vita l'altro grande evento che abbiamo in tempi abbastanza recenti attraversato cioè l'11 settembre anche lì diciamo così non c'era più un nemico anche lì il nemico è stato nominato tale ma in realtà funzionava in modo interamente inedito era un nemico embedded per così dire diffuso invisibile impercettibile al quale bisognava dare la caccia dando la caccia ai suoi terreni di coltura ai suoi dintorni ai suoi modi di contagio e trasmissione la minaccia terroristica non costituiva un fuori e un altro blocco contro cui costituirsi come un dentro e come un blocco non c'era questa dinamica amico nemico diciamo così non c'era questa dinamica alla Carl Schmitt il pensatore il giurista celebre e famigerato che ha pensato tutto questo intendendo naturalmente in profondità il funzionamento di un certo modo della lotta e dunque anche del compattamento delle identità se c'è un nemico noi siamo qualcuno noi siamo il nemico di quel nemico ma se non c'è un nemico se il nemico serpeggia se il nemico è diffuso se il campo del nemico è così diffuso da permeare capillarmente l'intero campo degli amici diciamo così allora non ci sono più amici non ci sono più nemici allora dunque di conseguenza non ci sono più amici questa era la condizione del sospetto questa è la condizione della paranoia questa era la necessità di innescare tutt'altro modo di reazione di gestione ripeto gestione che anch'essa doveva diventare virale metamorfica occuparsi non del nemico e della sua identità ma dei terreni delle circostanze dei luoghi in cui questo elemento non compatto circolava e si realizzava ecco tutto questo non è un caso che abbia risuonato con tanta forza allora e vent'anni fa e con tanta forza ora intercettando alcune linee di tendenza del nostro mondo che sono altrettanto evidentemente toccate altrettanto profondamente toccate da ciò che adesso sta accadendo di nuovo non c'è un nemico di nuovo c'è una minaccia che non ha la forma di una identità contrapposta a un'identità di nuovo c'è una minaccia che abbatte tutte le nostre suddivisioni familiari chi è in una età della vita produttiva chi non lo è più chi è dentro chi è fuori chi è in italia chi è fuori dall'italia chi è l'espressione di un mondo che produce chi è l'espressione di un mondo che non produce quali sono i diritti diciamo della produzione dell'economia del consumo e quali sono quelli della diciamo così sopravvivenza al di qua dell'economico tutto questo cade non funziona più ed è per questo che è così difficile utilizzarlo per fare presa sul sul mondo che viene così sul mondo che viene che è il mondo nel quale non sappiamo immaginarci il mondo che viene il mondo in cui noi non saremo più ciò che siamo non saremo più delle identità non saremo più dei gruppi che si contrappongono ad altri gruppi non saremo più chiusi saremo in una specie di aperto che va articolato in nuovi modi e già adesso questo aperto si è prodotto ovunque ogni casa per quanto completamente chiusa dalle regole del lockdown è interamente aperta e continuamente permeata da scambi è iper connessa ognuno di noi in questo strano tempo sospeso è in realtà iper connesso più che mai più che mai nell'aperto dello scambio ognuno di noi è completamente esposto nonostante sia rifugiato in uno spazio chiuso protetto da mascherine guanti strategie ogni nazione deve in qualche modo ragionare insieme alle altre rendersi trasparente a tutte le altre cosa che sconta enormi difficoltà come evidente l'europa sconta grandi difficoltà a costituirsi come europa anziché come un cattivo arcipelago di cattive identità chiuse e rivaleggianti e così anche si potrebbe dire grande difficoltà di ogni agglomerato d'europa se lo prendiamo nel suo insieme nel dialogare e rendersi trasparente e iniziare a pensare insieme ad ogni altro grande blocco la gestione complessiva no la gestione globale potremmo dire della salute come grande problema politico questo spaventa questo naturalmente spaventa e spaventa si potrebbe dire tanto nella difficoltà e nei passi indietro che facciamo poiché ogni passo indietro che facciamo da questo orizzonte è un precipitare ancora di più nella minaccia tanto nei passi avanti perché ogni passo avanti che facciamo in questa direzione ogni passo avanti che facciamo nella direzione di questa collaborazione di questo rendere la profonda solitudine occasione di una iper connessione e trasparenza tutto questo può andare in una doppia direzione che per due motivi ma molto simili in realtà inquietano può andare nella direzione di una grande solidarietà potremmo dire di una grande solidarietà di una grande esperienza di ciò che è comune di ciò che è il bene comune di una grande invenzione di un bene comune mai prima sperimentato sotto una pressione altrettanto potente no è solo la pressione dei fatti che può spingere a mettere in comune evidentemente e il rovescio di questo movimento che mette in comune che inventa il comune è evidentemente il rovescio totalitario rovescio che tanti paventano e che è evidente che in ogni avventura del mettere in comune dell'inventare il comune è subito in gioco no solidarietà e totalitarismo sono la stessa cosa in qualche modo sono uno stesso elemento intermedio che può essere tirato più da un lato oppure più dall'altro ed è evidente che noi siamo su quel bilico vertiginoso in cui stiamo sperimentando la possibilità no la virtualità della massima solidarietà la necessità della massima solidarietà e insieme il rischio del massimo totalitarismo del massimo controllo della massima trasparenza del ricatto della trasparenza diciamo così e ogni grande evento potremmo dire ci convoca su questa soglia ogni grande evento del contemporaneo è potremmo dire un secolo che noi siamo continuamente convocati dai grandi eventi che la storia chiamamola così complessivamente con una categoria forse un po logora che la storia ci fa incontrare ecco siamo continuamente convocati da ogni grande evento sul crinale di una scelta difficile una scelta difficile che però è in mano nostra che è in mano di ciascuno di noi è la scelta che riguarda dove metteremo l'accento e se lo metteremo da un lato otterremo del totalitarismo la solidarietà la promessa della solidarietà la promessa che non dimentichiamolo ha spinto ogni totalitarismo e se sbagliamo l'altro sul quale mettere l'accento otteniamo della solidarietà il totalitarismo e della solidarietà ogni totalitarismo è stato il figlio certo aberrante ma per tanti versi fedele inquietantemente fedele e dunque questa è la grande alternativa davanti a cui siamo e ciò che obbliga a uno sforzo di invenzione in direzione di qualcosa che non sappiamo che cosa saremo saremo una cosa futura davanti alla quale le antiche identità le antiche abitudini sono attonite e come ammutolite per questo potremmo dire parlano d'altro parlano di tornare al passato si difendono